Buongiorno a tutti voi e bentrovati con il consueto appuntamento del Tg del mattino di TRG con le notizie di oggi. Sabato 18 maggio vediamo insieme le principali news della regione Umbria in questa nostra prima pagina. E allora partiamo subito con la prima pagina per l'appunto del Corriere dell'Umbria dedicata alla sanità. Troppo attesa c'è il rimborso anche nel cuore verde, il cosiddetto effetto fuori dal coro, la trasmissione che ha acceso i riflettori su una legge del 1998 perché se le liste d'attesa sono troppo lunghe le USL sono costrette a rimborsare le visite a pagamento in intramenie in base a questa legge e si muove, dicevo, pure l'Umbria con i consumatori che cercano di garantire il diritto a chi ricorre a visite private. In fotonotizia invece è un fatto di cronaca di cui leggeremo su tutti i giornali. Poliziotto ferito da rapinatore in fuga, l'assalto al bar Biagetti di Santa Maria degli Angeli che finisce con la cattura del bandito su tutti i giornali, in particolar modo l'immagine dell'aggressione alla barista da parte del rapinatore che è stata tratta dal video delle telecamere di sicurezza. Ma ne parleremo fra non molto più nel dettaglio. Intanto con la Nazione invece in prima pagina si discute delle multe. I perugini pagano 32 euro a testa, le sanzioni stradali del 2023 con il comune che ha incassato 5 milioni e passa di euro. Terni invece si ferma a 700 mila con il peso degli autovelox. Ancora una volta in fotonotizia la rapina shock in diretta, terrore all'assisi barista aggredita con le furbici alla gola. Il bandito fugge, ferisce un agente, è stato arrestato. Le urla e il video, siamo sconvolti, è davvero un incubo. E poi si va verso le elezioni, il ministro Schillacci sarà in Umbria. L'annuncio ridurremo le liste d'attesa. Conte intanto è stato a Perugia dove ha lanciato Ferdinandi e ha detto il campo largo va. A Foligno invece Banca Centro, Toscana Umbria, apre una filiale in via Arcamone. Ma andiamo avanti anche con la prima pagina del messaggero, dedicata invece all'economia export. Volano moda e alimentare, numeri record nell'analisi dei distretti industriali del centro studi di Intesa San Paolo. In un anno il giro d'affari è salito del 9%, marcia in più delle imprese con i mercati esteri. Di nuovo la rapina da 300 euro al bar, poliziotto ferito alla testa, follia vicino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, è stato arrestato un 39enne. Per lo sport stasera il Grifo a Carrara deve fare l'impresa per quanto riguarda la Serie C playoff, servono almeno due gol. E poi invece da Gubbio, una Gubbio con una città fortunata, sono stati vinti altri 120 mila euro. Ennesima combinazione giusta ancora con il Super Enalotto, l'ultima vincita al bar della stazione. Ma vediamo più da vicino alcune delle notizie in primo piano con la regione Umbria, con la pagina della Nazione. Le storie di Cronaca, Rudy Ghede, altra perizia indagato per violenza sessuale. Questo è uno dei titoli della Cronaca, per l'appunto il telefono dell'ex fidanzata che lo accusa ora di lesioni e maltrattamenti. Sarà sottoposto a nuovi accertamenti, per lui divieto d'avvicinamento e braccialetto. Un anno fa la tragedia di Torricella, morirono tre giovani, un quarto purtroppo gravissimo. La procura ha chiuso le indagini. E poi invece un altro fatto, quello dell'adescamento di una dodicenne e del tormento continuo nei confronti di quest'ultima. Condannato un uomo a due anni e un mese, un uomo che aveva anche tentato di andarla a prendere a scuola. Andiamo avanti, barista aggredita con le forbici, terrore in un locale, preso il bandito. Come dicevo, siamo a Santa Maria degli Angeli, arrestato un 39enne che aveva numerosi precedenti. L'uomo ha saltato una caffetteria e ha tentato il furto in un centro di assistenza spirituale e ha poi aggredito un agente. Alla fine è stato fermato e arrestato. La ragazza è sotto shock e è stato un incubo. Questo è uno dei racconti. Urla disperate che sono state riprese dal video, la testimonianza del titolare Stefano Capezzali. E poi sempre con la nazione e anche la politica, le grandi manovre verso le amministrative, ridurre le liste d'attesa. La promessa del ministro è pronto un piano coraggioso. Orazio Schillaci, titolare del Dicastero della Salute, in Turra negli ospedali dell'Umbria, ha detto sulla sanità abbiamo messo 4 miliardi in più. Proteste per i possibili accorpamenti. Conte intanto lancia a Ferdinandi. Il campo largo dice funziona. Il leader del 5 Stelle a Perugia per sostenere la candidata del centro-sinistra, piattaforma condivise la miglior candidatura. Su Schillaci ha detto la sanità divide l'Italia. Intanto c'è il nodo e scoccia, ribadisce il sì, il tema del nodo su cui Margherita Scoccia per l'appunto ha ribadito il sì. Tutelati ambienti residenti, questo ha detto la candidata che ha incontrato le associazioni di categoria, il comitato, le proloco sul BRT in via chiusi, dice previste modifiche per proteggere il verde. L'annuncio del comune ancora da Perugia, consolidamento di San Bevignate, approvati i lavori per 500 mila euro. 5 milioni invece arrivano dalle multe con ogni perugino che paga 32 euro. Le sanzioni per le violazioni al codice della strada pesano sui cittadini del capoluogo, gli ternani puniti solo con 7 euro a testa e poi c'è l'incubo autovelox. Intanto c'è il via libera della giunta regionale, è stato approvato il rendiconto, risulta un avanzo di 82 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la banca centro-toscana Umbria, cresce, il bilancio è ok e nasce una nuova filiale. L'esercizio 2023 si è chiuso con un utile netto di oltre 15 milioni e mezzo di euro. Ancora con le pagine della Nazione, l'Umbria che attrae nuovi investimenti, l'economia va e rialza la testa con il tessile che fa da traino all'exporto, ma c'è anche un turismo da record con il balzo delle presenze giusti e foresti, hanno detto la sfida è l'innovazione green. I due economisti hanno ribadito quanto il turismo abbia giocato un ruolo chiave nell'economia dell'Umbria. Pacifici di Confindustria invece commenta le imprese sono a caccia di talenti, ecco alcuni suggerimenti su come trattenerli. E poi dal capoluogo un viaggio nella storia perugina, cinque chiese spalancano le porte e svelano i tesori del 200. Sabato 25 e domenica 26 maggio si terranno le aperture straordinarie e le visite guidate a San Prospero, a San Matteo degli Armeni, l'ex San Giovanni del Fosso, San Bevignate e Santa Giuliana. Ma c'è anche la mostra sul maestro Di Francesco che sarà il punto di partenza ideale, l'evento alla Galleria Nazionale. Uno sguardo rapido anche ad alcuni titoli con il Corriere dell'Umbria dalla regione, poliziotto ferito dal rapinatore dopo il colpo in un bar e il furto in un centro religioso. Il 39enne ha cercato di scappare, come detto ma è stato bloccato. Violenta aggressione a un agente del commissariato di Assisi ferito in testa col calcio della pistola dal ladro. E poi le liste d'attesa, tempi troppo lunghi, scatta il rimborso. Le associazioni dei consumatori fanno valere la norma per ottenere il pagamento delle visite intramenia da parte dell'ASL. Giordano, l'inchiesa del direttore di Fuori dal Coro, la trasmissione di Rete4, ha detto la legge esiste e deve essere rispettata. Intanto proprio su questo tema il ministro Schillac ci ha detto daremo un nuovo alinfa alla sanità, è stato a Spoleto ma anche a Foligno e Perugia. La protesta nel frattempo anche a San Matteo e Zaffini ha detto faremo l'IRCCS nel capoluogo. Ancora con il Corriere dell'Umbria la politica squarta che punta a Strasburgo e dice il primo obiettivo è l'agricoltura, ma anche l'export che supera il miliardo, crescita superiore alla media italiana nel 2023 con il distretto dell'abbigliamento di lusso che ha fatto da Traino. Questo in base all'analisi di Intesa San Paolo che ha mostrato un trend positivo in quasi tutti i settori. Stati Uniti e Francia i principali mercati di riferimento per l'Umbria. Voltiamo pagina sempre con il Corriere e iniziamo a vedere anche alcune delle notizie dalle città e partiamo dal capoluogo dove di nuovo in primo piano si parla di tariffe, in particolar modo quelle della Tari perché sono arrivate 82 mila cartelle ai perugini. Nel piano della tariffa rifiuti del 2024 è previsto inoltre un aumento del 7%, recupero di un milione dall'evasione. Andiamo ancora avanti sempre dal capoluogo per la cronaca. Per seguito a dodicenne è stato condannato e un milanese di 30 anni che era venuto anche più volte a Perugia fuori dalla scuola di questa ragazzina per contattarla. Dopo il divieto di avvicinamento ai domiciliari l'uomo è tornato libero senza obblighi e la famiglia della minore si dice preoccupata. Ancora la cronaca, bimbo di due anni investito dal papà ha ricoverato in pediatria, fortunatamente il piccolo non ha gravi ferite. Si parla di politica insieme sulla viabilità con l'appello di Margherita Scoccia bisogna fare squadra su opere strategiche per Perugia. Ha detto la candidata di centrodestra ai civici ha incontrato associazioni di categoria e comitato di cittadini. Intanto c'è la protesta anche dell'altro candidato a sindaco Roberto Monni che ha detto niente di fatto per una frana segnalata nel 2014. Corso Garibaldi District tra mostre cinema e arte. Presentate ieri le iniziative per rivitalizzare il quartiere. Si comincia oggi e si andrà avanti fino ad ottobre. Intanto termina la campagna Abbiamo a cuore la tua salute sulla prevenzione. Anche oggi la misurazione gratuita della pressione arteriosa nel Perugino. Premio giovedì scienza in giuria anche l'Alessi. Gli studenti di due classi del liceo scientifico hanno partecipato all'iniziativa valutando i finalisti. C'è la giornata contro l'omo lesbo transfobia. Coppa e Onfalos saranno insieme in ogni scontrino il numero per poter richiedere aiuto. A Castiglione del Lago la sfida 3 all'ombra della Rocca. Ecco il facsimile della scheda elettorale. La prefettura infatti ha reso nota la posizione dei candidati a sindaco. Primo sarà Filippo Vecchi sulla scheda, poi Paolo Brancaleoni e dunque Matteo Burico. A Magione tre ragazzi morti nell'incidente. È stato chiesto il processo per il 23enne. Si sono chiuse come detto le indagini. E di nuovo da Castiglione del Lago i borghi più belli di Cina che hanno fatto tappa al Trasimeno. A Canara invece la cronaca compra pellet e non paga. È stato denunciato un 53enne. A Bassia Umbra c'è il Bike and Run Festival. La Kermess torna in una veste rinnovata. Ad Assisi opera laboratori. Musei spalancano le porte per le visite in notturna. A Todi rubati soldi e oro ad un'anziana. Banda in azione nel Tuderte. Con la tecnica del finto arresto due uomini hanno raggirato una donna di 80 anni. Sempre a Todi boom di turisti. Nei primi tre mesi tornano numerose. Gli stranieri ci saranno 50 gli espositori a Todi Fiorita. In pieno svolgimento la manifestazione nel cuore del centro storico. Mentre a Marsciano la corale Santa Lucia di Cerqueto festeggia 50 anni. A Città di Castello aperitivo nel nome di Monica. Dedicato alla Bellucci. Alle donne il drinker rosa realizzato da Katia Cioffo e Sara Polidori. Durante le lezioni alla scuola Bufalini. E poi invece la ceramica che si mette in mostra nelle sue mille sfaccettature. Fino a domani sono in programma a Città di Castello numerosi appuntamenti. Tornano però anche le bancarelle di retro. Domani saranno 150 gli espositori in centro. E poi ci sono però anche i lavori sulla superstrada. E chiudono gli svincoli. Città di Castello Nord sarà off limits. Da mercoledì in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Cesena. Ma non si tratta dell'unica limitazione in vigore lungo la E45. A Sansepolcro è stata scoperta una discarica abusiva. Ha sequestrato un'area di oltre 1300 metri quadrati. Piena di rifiuti speciali e pericolosi. Un'operazione della Guardia di Finanza insieme ad Arpat. È stato segnalato alla procura il gestore della società. Ma ne parleremo più a lungo nel corso della nostra rassegna stampa approfondita. Intanto andiamo avanti con le notizie. Sempre con il Corriere dell'Umbria. Dalle varie città dei Cuore Verde. Siamo ad Umbertide dove la deposizione diventa digitale. Capolavoro del Signorelli in altissima definizione. Durante i lavori al Museo di Santa Croce si potrà ammirare grazie al QR Code. A San Giustino Gioia e Marinelli raccontano il custode della memoria. A Pietralunga, Prisco e Polidori al fianco di Ortali per quanto riguarda la politica. A Gubbio vincono 116 mila euro in 42. La Dea Bendata bacia il bar della stazione. Fortunata estrazione giovedì al Super Enalotto. Giocato dai clienti tutti Eugubini. Un sistema che si ripete da quasi 20 anni. I titolari del bar dicono ci siamo andati vicinissimi. E a Gubbio è anche tutto pronto per l'omaggio al Patrono con i Ciri Mezzani. Domani è il giorno che vede i protagonisti e le nuove leve. Ripercorreranno le tappe del 15 maggio con grinta e freschezza. E noi seguiremo queste tappe ovviamente con una diretta che partirà intorno alle 10 e 30 e che arriverà come di consueto in serata. Andiamo ancora avanti. Siamo a Gualdotadino alla scoperta della ceramica. Oggi e domani sono previste una serie di visite guidate negli spazi museali e all'Opificio Ruboli. Anche laboratori per i piccoli. Il gruppo fotografico Gualdese promuove questo appuntamento. Le pietre raccontano la storia del territorio. Mentre c'è la palestra digitale per i ragazzi. Torna alle 9 la manifestazione sulle moderne forme di manifattura in 3D. A Folignoli per le comunali Conte dice voltiamo pagina. Il leader del Movimento 5 Stelle accolto da un bagno di folla ha detto dovete venire a votare. Queste astensioni ci fanno male. Per l'Erasmus Plus tirocino a Maiorca per due diciassettenne Folignati. E torna a giro giocando, trasporto, cucina e giochi che sono dedicati ai più piccoli. Trevi intanto premia in memoria del concittadino Moretti. Martedì la cerimonia promossa dal comune e dalla Proloco. Ancora da Foligno spazio Zut che compie dieci anni con il duo Bono-Burattini. A Spoleto spiragli per il personale in procura. La grave carenza di amministrativi all'attenzione del ministero. Mancano anche unità per la sezione di polizia giudiziaria. Sempre a Spoleto prevenzione e sicurezza per la ricostruzione nel cratere del sisma. Il commissario Castelli al festival del lavoro. Olio d'oliva contro i tumori cerebrali. Monini a fianco della fondazione Veronesi per contribuire alla ricerca scientifica. A Campello sul Clitunno la campagna elettorale entra nel vivo. Iniziano gli appuntamenti dei candidati sindaco con la presentazione delle liste. A Cascia, festa di Santa Rita, tre giorni di eventi tra pace e perdono. Le manifestazioni prenderanno il via il prossimo lunedì. Sempre a Cascia il riconoscimento internazionale per tre donne. Virginia Campanile, Cristina Fazzi e Anna Giabur. Che saranno premiate per rappresentare i valori della religiosa. E poi andando avanti siamo a Terni, si parla di sicurezza e vanno giù altre dieci piante. È stata infatti firmata l'ordinanza per via Tito Oro Nobili da tagliare otto pini e due platani. Urgente tutelare l'incolumità pubblica. A Cospea Alta sanzioni ai privati per il Verde, ritardi nel completamento delle opere di urbanizzazione e sottopasso. E poi il nodo degrado con il 30 maggio che ci sarà un sopralluogo. Per Cardeto i cinque guai del quartiere, alle prese con zanzare, traffico, pochi parcheggi, assenza del sovrapasso e pista ciclabile interrotta. Siamo sempre a Terni dal polo chimico segnali positivi. L'assessore Cardinale ha detto che entro un mese i lavori di manutenzione in corso saranno ultimati. E poi foto come mezzo secolo fa c'è stata la rimpatriata all'ITIS degli elettronici. A Narni i tecnici entrano alle grazie. Soluzione sempre più urgente sopra il luogo del Comune di Roma, possibili prescrizioni dalla sovrintendenza. A Dorvieto infrastrutture sviluppo sulla RUP e imprenditori incontrano i quattro candidati per una iniziativa della sezione di Confindustria. Sempre a Dorvieto ci sono altri due giorni di fuoco per i pendolari, pesante ritardo per raggiungere Roma. Arrivati due ore e mezza più tardi, questo è uno dei commenti dei pendolari. Mentre ad Amelia dal 23 al 26 maggio torna la Biennale Umbria letteratura. Guardiamo anche qualche notizia con il messaggero. Siamo a Perugia, De Orro, un nuovo piano per i grandi eventi in programma in centro. Questa è la richiesta dei commercianti. Nella frazione di Pretola i lavori sulla RIPA crescono di altri 60 giorni. E poi invece botte alla mamma, ora il figlio orco dovrà starle lontano. Dopo la denuncia della donna per un 43enne disposto dal giudice il divieto di avvicinamento, nonché l'applicazione del braccialetto elettronico. Il dramma un anno fa, l'incidente con tre giovani vittime, strage dei ragazzi, il ventenne indagato, ora rischia il processo. E poi la sentenza è stato condannato, l'ingegnere ossessionato da una ragazzina di 12 anni. A Ponte Falcino finisce nei guai un ragazzo ubriaco, provoca frontale, è stato denunciato. E l'udienza ex finanziere violento in aula, moglie e figlia, ripercorrono anni di paura. Rapina al bar ad Assisi, poliziotto ferito alla testa, questo è il titolo di cui abbiamo letto, come detto, su tutti i giornali. A Città di Castello da Katia e Sara un omaggio alla diva Monica Bellucci e a tutte le donne con un cocktail rosa. A Todi l'incontro, docenti universitari ed esperti, così Todi rende omaggio a Siviero, lo 007 dell'arte. E a Città di Castello anche le 45, con un mese di lavori, chiusi svincoli di un vertile, le città di Castello Nord. Si parte lunedì. Andiamo avanti e siamo a Foligno, città per due giorni a disposizione dei bimbi, perché tutto è pronto per giro giocando in programma il 25 e 26 maggio. L'emergenza dei rifiuti abbandonati in strada, anche ad Acquabianca. A Cannara il caso compra 1200 euro di pellet e non paga, viene denunciato. E l'iniziativa, parità di genere, firmata la carta Donne e Sport a Foligno. A Spoleto invece il ministero ammette la procura è sotto organico, con il procuratore Sottani che ha detto rafforzamento promosso dall'amministrazione centrale, pianta organica mai aggiornata dopo il riordino degli uffici giudiziari. La questione, l'autovelox sulla Flaminia torna a far discutere, Grifoni commenta non c'è la richiesta da parte di Anas, e Monteluco che diventa un set cinematografico con il progetto del giovane regista Flavio Strano. Andiamo ancora avanti e siamo a Terni con il messaggero, cardeto il grido di dolore degli abitanti, il traffico è diventato insostenibile, per il verde pubblico alberi, altri pini e platani da battere, motoseghi in azione pure in via Nobili, a Ficulle, Monteleone e Lugnano, corse in solitaria contro il quorum. Si parla ovviamente di politica e di elezioni. Da Terni mamma mi accompagnava a prendere la coca dal pusher, tra la testimonianza di un giovane ternano ospitato da tempo alla comunità incontro di Amelia Molino Silla, il recupero di tanti minorenni già purtroppo schiavi della droga. E poi il ride ASM, spariti nella notte due automezzi e il materiale conservato nei magazzini. Andiamo ancora avanti e siamo ad Orvieto, è il giorno delle infiorate, la città della Rupe fino a domani si riveste di petali dei quadri realizzati dagli infioratori dei quattro quartieri, la premiazione avverrà domani in Piazza del Popolo e precede la tradizionale festa della Palombella. C'è la notte dei musei a Terni, rimarrà aperto anche il caos, ad Amelia invece per quanto riguarda la cultura una camminata per unire le biblioteche. È al via l'iniziativa Bibliotracking promossa per far conoscere il più possibile le strutture presenti. Andiamo avanti con lo sport, restando alle pagine del messaggero Fere, lo stile Breda. Ora stiamo calmi, il mister teme un calo di concentrazione e dice il Bari non pensa certo di essere già fuori. Allenamenti ancora a porte chiuse dopo il pari d'oro strappato al San Nicola. Liberati al via la prevendita per gli abbonati, caccia al biglietto per la gara di giovedì, trasferta vietata ai bianco-rossi, sicurezza e viabilità, si sta studiando un piano. Per il punto tattico, pressing alto e possesso palla, rosso-verdi padroni del campo. Per quanto riguarda invece il grifo, a Carrara l'ultimo assalto allo stadio dei Marmi alle 20.30 per l'impresa, vincere con tre gol di scarto per stare nei play-off. Squadra e tecnico chiusi in una bolla, l'obiettivo è chiudere la stagione a testa alta. I bianco-rossi possono tornare al modulo più offensivo, l'ipotesi è quella del 3-4-3. Intanto per il basket, il Todi va a K.O. con Falconara, dice addio alla Serie C, Virtus Assisi sconfitta in trasferta ma non è finita, domenica infatti si gioca la bella. E poi per quanto riguarda il volley, la Sirra Susa Vim Perugia, un altro colpo, è stato preso Zuppellari. Lui commenta soddisfatto, Perugia è come il Real Madrid. Per quanto riguarda invece il calcio, Foligno, ACF, sulla fusione, Filippetti ha detto noti. Ne ha ancora banco nel dibattito sportivo cittadino la ricostruzione dei fatti. Circa la trattativa tra ACF e Foligno Calcio per l'acquisto del marchio di quest'ultimo. Andiamo ancora avanti con le notizie sportive, leggendo anche quelle della Nazione. Perugia la notte verità a Carrara per l'impossibile, si gioca il ritorno dopo il 2-0 dell'andata. La prestazione non deve mancare. Strategie, Formisano, pensa al Tridente, gli Annoni e Quan in mediana. E probabilmente per quanto riguarda le possibili formazioni in campo questa sera alle 20.30, Perugia scenderà con il 3-4-3 come già letto. Settore giovanile, Under-15 a Monopoli per gli spareggi, mentre sempre da Perugia, ma per quanto riguarda il tennis, ai Piemonte Open, Passaro va e si regala i quarti di finale. Andiamo ancora avanti con la Nazione. Anche il calcio di Serie B in primo piano con la Ternana. Breda predica prudenza, dobbiamo fare una grande partita, queste le sue parole. Dopo il pari a bare, le fere preparano il ritorno, play-out alliberati. Noi giochiamo per il pareggio. Ancora il calcio, Ranocchia inaugura il trofeo Città di Assisi, colori Decora, a Terni al Via la prevendita per i biglietti della partita. E poi per il calcio di Serie C, Gubbio, i nodi da sciogliere e il futuro. Con la società che riflette, una società che sta attraversando un momento per l'appunto di riflessioni per quanto riguarda la guida tecnica, ma non solo. E poi di nuovo ACF, anche in D ci faremo valere con il presidente Zoppi, il dirigente Cesaretti e il DS Petteri Petterini che illustrano i progetti e dicono attenzione all'estruttore organico di livello e sociale. Noi chiudiamo qui questa nostra prima pagina, ma ovviamente torniamo con la nostra rassegna stampa approfondita subito dopo la pubblicità.